Nel 2019 il gruppo TuvSud decide di investire ingenti risorse per realizzare uno dei più grandi laboratori prove d'Europa. La struttura, che oggi si trova nel comune di Volpiano, alle porte di Torino, è stata realizzata in un tempo record di otto mesi, nonostante il lockdown. Siamo estremamente orgogliosi di aver compiuto un passo così importante in un momento così difficile. Oggi il Laboratorio Prove Tuv Italia è un polo tecnologico in cui competenza, passione, si fondono insieme per dare vita a un servizio di eccellenza.